Ciao ragazzi! Un bel casco, con la mascherina, la visiera, potete ritirare la mascherina e usare la visiera, un bel giubbino tecnico, veramente sportivo, comodo, piacevole, con le protezioni, questi oggetti li trovate nel nostro showroom, anche online, chiedete via Alessia, vi saprà servire al meglio, per quanto riguarda adegnamento, gadget, Roberto per gli accessori e il vostro Ivano per la moto, che moto vi sto presentando oggi, una moto da urlo, una moto che è piaciuta molto, è una Fat Bob già ultima generazione S, motore 114, 1.868, quindi 4 valvole per cilindro, parecchio, parecchio accessoriata, la moto ha percorso 25.000 km, unico proprietario, vi racconto un po' gli accessori, dalla sella Touring, abbiamo anche la sella originale che è più rastremata, un po' più bella da vedersi, ma questa è più comoda, il Sissibar, il portapacchi a sgancio rapido, le manopole CVO dell'Harley Davidson, le pedaline anteriori e posteriori della serie School Black, gli scarichi Vans & Ice, disponiamo anche degli scarichi originali, le freccettine Mille Bullet a LED, col farro LED della Rizoma e il polino anteriore regolabile della MCJ, mentre la moto ha percorso 25.000 km, è in vendita 17.900 euro, verrà consegnata a taglia andata, garantita a 12 mesi, la colorazione si chiamava Bonneville Salt Venim, non è più in produzione questa colorazione, ma la moto è identica al modello in produzione, al modello 2021, perché ha già il motore 114. Vi aspetto dalle nostre parti, venite a vederla, a provarvela, siamo qua, in Harley Davidson Mozart, come al solito il top. Ciao ragazzi, a presto!